Ciao, io sono Alessandro De Luca, titolare del Rufus Cocktail Bar di Milano. Quest'oggi vi faccio assaggiare un grande classico, un IBA, che è il Cops Revival. Partiamo con il gin, quindi 15 ml. Passiamo al controllo tra i lini 15 ml, termot bianco 15 ml. Dopodiché partiamo con 15 ml di limone, ovviamente, e un drop di assazio. Scicchieriamo. Grazie a voi e a la salute, ragazzi.